Buongiorno a tutti, parcheggio Fonte Scodella, ore 7 del mattino, partenza per debutto di Champions League all'Ennic in Belgio e questo è il cielo di macerata. Non c'è uno spiraglio di luce a parte questo lampione, ci aiuta a illuminarci la strada, la gente sta arrivando, il pullman è quello lì, anzi quello è il culo del pullman. Non so se dire buongiorno o buonanotte, nel caso, ciao. Oddio. Allora, Simone Parodi, numero 6 della Lube, cucina Lube, banca Marche e macerata. La faccio un po' più entusiasta, per favore. Posso farti il primo piano e meglio di no per il pubblico. Oddio, siete pronti? Pronti, pronti, pronti. Oh madonna, in fondo sei un ragazzo interessante. Ascolta, parliamo di cose serie, si si va più dietro, dietro. Debutto in Champions League, intanto informa la gente a casa dove stiamo andando a... No, informa sbagliante, non informa la gente a casa. No, no, non fare il simpaticone, informa nel senso voce del verbo informare. Allora, io so solo che andiamo a Bruxelles, che mi scrive con due S. No. Anche con la X, è il solito pullman. Il solito pullman che ci porterà le... Niente, la affronteremo l'indomani alle 20.30. Come ti senti, sensazioni? Io sto bene. Hai delle sensazioni positive? Sì, sì. Sì, sì, vabbè. Ecco, questo è l'interesse del nostro campione Simone Parodi. Eccolo, Ivano Zaitze. Com'è elegante il nostro zar biondo. Cresta però poco curata, poco curata. Te nota poco char. Salutiamo a casa? Ah, già finito. Sì, tre minuti e mezzo, basta. Cos'è, un bel tramezzino? Io mi sono fatto un yogurt e una macedonia. Finiti all'istante? No, basta. Salutiamo tutti e speriamo di... Speriamo di atterrare perché il viaggio in aereo ci attende. Speriamo di atterrare perché il viaggio in aereo ci attende. Speriamo di atterrare perché il viaggio in aereo ci attende. Speriamo di atterrare perché il viaggio in aereo ci attende. Tanto che si fa come il testo in aereo. Va bene. Bocca al lupo? Ah no. No, in cuo alla balena. Sì, speriamo che non cagli. Bravi. Abbiamo preso i bagagli ragazzi. Tutto a posto Max? Tutto a posto. Preso tutto il necessario? Tutto a posto anche di più. Arrivati in terra belga. Ci accingiamo verso il pullman che ci porterà al nostro prossimo e graditissimo pranzo. Dopo il pranzo ci si allena. Vedete il commento sulla vittoria? Simo, guarda che ti giuro che lo metto su internet. Ah sì?